Cuneo è sempre stata una bella squadra che ci ha sempre dato fastidio, infatti ci aspettavamo una partita più da combattere invece siamo state molto brave noi a chiudere subito il primo set e poi a ripartire bene gli altri due quindi sono contenta di questi tre punti pieni che ci servivano per la classifica. Sì, Jordan non ha bisogno di presentazioni e ci può dare una grande mano adesso ha fatto ancora pochi allenamenti con noi ma già si vede che può dare una spinta in più anche quindi siamo contenti che sia arrivata perché ci fa bene un innesto come il suo.